bene ciao a tutti adesso proviamo con la mia nuova m4 di batman andremo a fare un giro di suzuka ancora freddo vediamo un po come si muove macchina veramente stupenda molto prestante andiamo si mette con grande regolarità in queste curve a setto stupendo un unico raccordo su questa curva wow raccorda veramente la perfezione fantastica fantastica grazie a tutti grazie a tutti due dieci cinque grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti